Un vittorio alla ricerca di punti e soprattutto di gol ed è quello che si presenterà domani al Comunale, al cospetto dell'Atletico Gela già eliminato in Coppa Italia. La formazione di Campanella deve ritrovare alla via della rete smarrita dal derbe ormai lontano di Comiso. D'Agosta, Zaccante e Cocimano soprattutto ci hanno provato sia con l'Orlandina che con Modiche da Cis Sant'Antonio tra campionate e Coppa, ma la fortuna ha girato loro le spalle. Una volta era la traversa, un'altra le prodezza dei portieri, ma il pallone non ha mai voluto varcare la linea di porti in oltre 280 minuti di gare. E pertanto arrivato il momento di rompere il digiuno e l'avversario di domani, appunto l'Atletico Gela, rinato dalle ceneri di quel Gela fino a qualche stagione fa in prima divisione, non dovrebbe costituire un banco di prova insormontabile. Non ci sarà Capitan Nobile al centro della difesa perché squalificato, ma Campanella ha tante di quelle soluzioni che dovrebbe tamponare la falla. In avanti dovrebbe essere quindi la giornata di D'Agosta e compagni, quanto mai motivati a spezzare la crisi del gol.